Scusi signora, in casa chi comanda, il marito o la moglie? La moglie. E perché? Che è San Mere. Ah, perché è la padrona? Sì. Allora chi amministra i quadrini e la cassa? La moglie. La moglie? Sì. E il marito? Sì, si è andata a traballare. Lui deve andare a lavorare? Sì. E poi? Quando va a lavorare? Lui deve andare a battere i seminari e le ho dato alla moglie. Ho capito, porta i quadrini a casa e le dà la moglie, così? Sì. E chi educa i figli? Chi ha la responsabilità dei figli? Sa mamma. Sempre la madre? Sì. Perché il babbo non è sempre chi vi è che sta in campagna, è traballando, e sa mamma è sempre l'indombo e tocca da issa, ve lo spoglio di subito il cammino. Ho capito. Cioè che il babbo sta in campagna e... Traballando è il problema di battere su un mandico, sul figlio. Sa mamma è stata obbligata di dare l'attenzione e di lo docare. Di tutto. Allora la padrona dei propri è lì, insomma. Sì. È proprio chi comanda. Sa mamma è so Dio.